Hey fighters, are you ready for the game? Mercoledì. Questo lo devi conoscere per forza. Squid Game. Black Mirror. Sex Education. Stranger Things. Avanti col prossimo telefilm. The Crown. The Witcher. Damer. Bojack Horseman. La Casa di Carta. Umbrella Academy. La Regina di Scacchi. Breaking Bad. Love Dead Robots. Mindhunter. Cobra Kai. House of Cards. Julie and the Phantom. Firefly Lane. Lucifer. Lucifer. Riconosci questo show? Emily in Paris. Narcos. Narcos. Lupin. Lupin. Bregerton. Bregerton. Elis in Borderland. Ozark. questo scommetto che non lo conosci. Better Call Saul. E ora l'ultima fatica. E ora l'ultima fatica. È facile. The Walking Dead. Complimenti. Hai terminato il gioco. Commenta il tuo punteggio. Non dimenticarti di lasciare un like se ti è piaciuto. Iscriviti al canale. Pubblico giochi ogni giorno.